Al numero 139 si parla di unità, di aprire la mentalità per essere capaci di far nascere nella coppia l'unità. Ma sentite cosa dice, l'unità alla quale occorre aspirare non è uniformità, ma una unità nella diversità o una diversità riconciliata. È un traguardo straordinario, lasciatemi dire, qui occorre arte divina per comporre la diversità nell'unità, saper far emergere, far uscire da lei e da lui la sua diversità, non combatterla, chiuderla, inibirla, farla uscire e cercare l'armonia nella diversità. Questo è crescere nell'unità. L'unità, come dice qui, non è uniformità, non è per forza di cose dobbiamo essere uguali, no, far venire fuori la diversità per cercare una unità nella diversità, oppure diversità riconciliata. Io la chiamo l'arte divina del far crescere le diversità per puntare ad una unità sempre più grande. Grazie a tutti.